buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlogmas non sono anzi questo primo vlogmas non sono per niente investi natalizia perché ieri quando stavo dormendo c'è proprio era l'unice e mezza tipo non sto dormendo solo nel letto ho visto il giorno dire il 30 quindi ieri che ho pensato ma domani quindi primo dicembre ma quindi domani iniziano i vlogmas ma domani quindi siamo nei calendari dell'avvento un menino completamente dimenticata ne sono accorta praticamente a mezzanotte faccio colazione e andiamo a recuperare subito se sentivate in sottofondo c'era il gorgoglio si dice non lo so lo scoppiettivo non idea della caffettiera infatti guardate la mia nuova tazza è pronta la mia colazione ovvero latte e caffè oggi ne ho preso veramente poco comunque guardate quanto è bella tazza più bella di quelle di tiger si proprio della casa di panni di zendro di tiger mi piace molto molto di più volete entrare volete entrare andiamo in camera andiamo in camera a prepararci andiamo 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 è giunto il momento di aprire i nostri due calendari dell'avvento iniziamo con quello di sephora so che gli altri anni proprio il primo vlogmas mia sorella mi faceva il calendario dell'avvento con i prodotti makeup ma quest'anno appunto mi sono dimenticata che fosse il primo dicembre e quindi non l'ho fatto comunque appena si toglie con la copertura ha un odore buonissimo il calendario il primo prodotto troviamo la baby love palette di natasha denona allora in realtà ovviamente ho già l'ho già aperto appunto spacchettato con voi però comunque sempre bello perché non mi ricordo i prodotti che ci sono giorno per giorno quindi è bello ora utilizzarli man mano andiamo con quest'ora di revolution e andiamo a prendere la prima casella dove eccola qui questo sono erro per ogni prodotto e va la velina questo è un lipoil tendente al rosa questo calendario e tutto quanto sul rosa e lo vado proprio ad applicare ora prima di prepararci per andare proprio a registrare un altro video tra i non per il black friday quindi simile a questo vi voglio far notare una cosa ovvero elaborazione fino alla risoluzione 4k in corso tre ore rimanenti che cos'è successo in pratica sotto due miei video tra cui video precedente che vi lascio qui su che è il treno di nudita quindi come indossare lingerie come vestito cioè proprio come capo sotto quel video e sotto un altro che non ricordo quale fosse comunque ci sono stati appunto due commenti in cui si diceva aumenta la qualità 4k eccetera eccetera ormai non si può più vedere 1080p allora io la macchinetta che sto utilizzando ora le scene di stamattina sono state fatte con il telefono l'iphone 15 pro che ha il 4k non so se ho impostato il 4k stamattina oppure l'hd comunque ora sto usando la macchinetta che non fa 4k quindi ho voluto fare la prova ieri proprio il 30 novembre di registrare il video all per oggi che è venerdì di h&m video 3 on all io pubblico solitamente lunedì e il venerdì oggi è venerdì non è uscito nessun video primo dicembre perché da ieri l'ho registrato ieri pomeriggio da ieri sera sia per esportare per trasferire i file e le clip dal mio telefono al computer ci è voluto in eternità ho smesso ho finito stamattina stamattina tutta la mattinata ad editare perché si sono cambiate tutte quante le impostazioni essendo del telefono e non quella della macchinetta sull'applicazione appunto sulla quale edito e tra l'altro per l'esportazione due ore rispetto ai 20 minuti che ci mettevo con la macchinetta ora il caricamento su internet cioè su youtube e sono state altre due ore di caricamento solo di caricamento e per in hd in 1080 per trasformarli in 4k ora dice 3 ore immaginate quanto tempo io perderei se dovessi fare otto quanto con il telefono ora di video quindi è stata forse la prima e l'ultima volta non lo so da riprovare magari trovare anche altri scamotage non idea quindi già solo per questo vi prego da vedere quel video perché l'ho fatto veramente con tutto quanto tutto il mio cuore la mia passione andate a mettere un mi piace e commentate appunto quel video magari così ho un po' più di supporto perché perdere un tutto questo tempo non lo so ecco sinceramente non so se voglio utilizzare questa palettina oppure la metto sul vinted credo la metterò sul vinted tanto non l'ho né toccata né swatchata né niente la posso proprio vendere così perché è una palettina con toni che non userei perché questo bronzo è troppo scuro per me ma tantissimo questi due mi sembra che ci siano proprio identici nella palettina di che era verrà anni eccoli qui c'è notate sono proprio identici questo con questo e questo con quest'altro cioè se non fosse proprio questo un po più salmone ma su di me è sicuro sono troppo fluo conoscendo la mia palpebra andiamo ad applicare subito il lipo il di revolution perché mi sta avendo quel mio quindi ottimo che ne ho trovato subito uno è un buonissimo odore di caramella a me questi applicatori così con i pelettini mi fanno un soletico alle labbra che non immaginate ne sento idratate ottimo quindi procediamo con il makeup voglio fare un makeup veloce perché voglio registrare un video tiktok in cui spacchetto e magari proviamo qualche prodotto di kiko dato che c'è la promozione 3 più 3 non so se è ancora disponibile nel caso vado a vedere per il black friday intendo e quindi sono arrivati e poi voglio registrare un video all di asos mia sorella ha preso dei vestiti e mi ha detto che se volevo potevo fare video con quindi magari a voi possono interessare e quindi ve li faccio vedere ve li mostro probabilmente sfrutterò questi vlogmas allora in primis non mi ha detto neanche la programmazione perché non ci ho pensato neanche in realtà per quanto riguarda la programmazione pensavo come gli altri anni ovvero raggruppo diversi giorni in di blog appunto ma ci saranno anche i video normali che registrerò e non so se fare tipo la domenica i miei cani sottofondo che abbaiano questo è roi che sta abbaiando a sky perché sky non vuole giocare invece roi è giocherellone dice dai giochiamo giochiamo giochia con me e roi e sky stiso per terra e roi che abbia di su comunque dicevo probabilmente non so se fare la domenica oltre ai miei due video settimanali oppure sostituirli ogni tanto con il video settimanale non idea vedremo probabilmente andrò a caso assolutamente sì e dato che non so quanto possono essere natalosi questi video natalizi questi video probabilmente li sfrutterò anche ad esempio io devo fare ancora il cambio armadio cioè sto campando con i pochi vestiti acquistati ultimamente oppure con dei capi che avevo tenuto nell'armadio di scorta cioè per i primi freddi e così faccio anche per quanto riguarda i caldi e sto campando con questi vestiti perché il mio armadio ancora è estivo e devo fare anche un enorme decluttering quindi vedrete caricati al più presto spero su vintage tantissimi capi questo video sarà molto un video chiacchierato perché gli altri anni almeno facevo vedere mia sorella che faceva il calendario dell'avvento ma quest'anno non lo vuole fare si scoccia quindi nel caso convincitela voi sotto i commenti per favore così me lo fa anche se un po in ritardo ma me lo fa make up terminato super veloce e semplice e mi sento le labbra idratate tanto che non voglio andare a mettere su un prodotto labbra in realtà ma devo registrare l'unboxing appunto del pacco di Kiko perché ho preso 12 cose 12 prodotti e vedrete lo spacchettamento su tiktok quindi andate su tiktok e altra cosa per quanto riguarda il make up ho iniziato il decluttering appunto ci saranno anche episodi di decluttering qui nel risistemare anche la make up collection notate che qui dietro ho cambiato tutto perché prima c'è già dischi con i vari dischi la cassa eccetera foto invece ora no solo make up come anche qui rossetti stanno arrivando gli organizzatori qui c'è il delirio sulla mia scrivania quindi magari vedremo anche insieme tutto quanto nei logmas ogni volta che sto sdraiata sul letto Roy è geloso che Sky sta vicino a me ogni volta che metto sul letto Roy sempre così cerca da me le coccole vero Roy? vero? cuci cuci? e poi si mette esattamente così magari vi swatcho tutti quanti i prodotti così li vediamo insieme se li riesco ad aprire ovviamente già che ci sono vi swatcho in ordine la 31 e andiamo con il 101 ghost smart emotion sono tipo i pack di lancome no? come si può ben notare questo è un unlimited double touch colorazione numero 130 in questa colorazione nude in questo azzurro super super luminoso facciamo che ve la sboccio qui super cremosa in realtà è molto molto luminosa e bella scrivente ho portato giù i due monelloni uno e due eccoli qui Roy è molto geloso di Sky e ho anche registrato l'unboxing di tutti quanti questi 12 prodotti di Kiko andate su tiktok a vedere lo sto finendo di editare ora e sarà un pubblico ovviamente quando vedrete online questo video quindi andate su tiktok a recuperare questa prima giornata di dicembre termina così ho fatto l'acqua calda per la caomilla che ora vado a prendere ho cercato di mettermi il pigiama più nataloso più natalizio che avevo lo so che dice natalizio ma dico nataloso perché è più bello quello effettivamente natalizio deve essere lavato e per me lo posso mettere e nel caso non ho credo sia uscito assolutamente il video comunque uscirà un video del Zenith a riguardo e ovviamente cercherò i prossimi giorni di fare così molto più natalizie con la prima giornata Oggi è 2 dicembre Praticamente oggi non vi darò retta E non vi darò retta Perché più tardi devo andare agli scout Domani neanche purtroppo Cercherò comunque di aprire il canale dell'avvento Perché domani sarò di nuovo con gli scout Tutta la giornata Quest'oretta che ho prima di andare agli scout La dedico al decluttering Ci sarà un video a parte Sul decluttering e il cambio stagione Spero almeno Perché so che durerà tantissimo Vediamo un po' se poi mi va di registrarlo man mano Se no vediamo un po' Comunque ve lo lascerò sicuramente più avanti E detto questo Praticamente ci vedremo Direttamente lunedì O comunque al prossimo vlog Siamo matchati questo Natale Figati Mi dispiace che sono un po' Ho i cagnolini qui Ho registrato un video hall in realtà In realtà due video hall Che c'è? Vuoi essere I video Video Qui E niente Sky invece sta davanti alla porta Ok Era Roy E niente Ho registrato in realtà due video hall Oggi Non Non ho potuto parlare molto Perché siamo stati all'assemblea Di zona Per quanto riguarda gli scout E dal calendario dell'avvento È uscito un ombretto liquido Che ho messo come punto luce È molto molto bello in realtà Invece da quello di Sephora È uscito il blush mini di Nars Orgasm Bellissimo Cioè in realtà l'ho messo L'ho provato così Giusto un po' stamattina Ma poi lo voglio provare proprio Per bene Guardate qui Roy Qua Roy è coccolosissimo Vero Roy? Vero? Questo lullato che avete in mezzo sentito È Sky Vero Sky? Vero Sky? Questo smolto in realtà L'ho già utilizzato Per fare delle undie col semi permanente Ma è uno smolto normale in realtà E quindi si è rovinato dopo poco Però è un bellissimo colore Se usate gli smolti normali Escolto in realtà Così C'è un po' di acqua. Grazie per la visione!